Ci siamo appena costituiti, quindi il 13 gennaio scorso è nata questa associazione di giuristi cattolici, quindi la sezione di Vasto, che ha soprattutto come scopo quello di attuare i principi dell'etica cristiana anche nel proprio ambito lavorativo. Quindi sarà molto importante poi soprattutto la formazione per noi, per i giuristi che si avvicinano a questa nuova realtà, e ovviamente portando lo spirito cristiano, insomma tentando di portare lo spirito cristiano anche nell'ambito lavorativo, e poi questa esigenza che lei dice probabilmente riusciremo ad attuarla, insomma a soddisfarla in qualche modo, perlomeno ci proveremo. Poi siamo popolo in cammino, quindi appunto c'è bisogno di crescere, per questo l'associazione ha più questo scopo, insomma per crescere noi, perché per evitare quella che un po' è la vita doppia, che magari si relega la carità in parrocchia, e poi invece nel proprio ambito lavorativo si pensa ad altro, ecco ci sono altri principi che regolano la vita, quindi cercheremo di crescere in questo senso e cercare l'unità di vita. Sì, è un incontro interessante perché mette insieme tematiche economiche e tematiche giuridiche, usualmente la gente pensa che diritti d'economia seguono strade diverse, e invece in questo caso io spero che dal convegno emergerà con chiarezza che la fiducia che il diritto esige dai cittadini nei loro rapporti giuridici deve trovarsi in modo assolutamente analogo nei rapporti economici. Non c'è economia giusta, priva di fiducia, come non c'è un giusto sistema giuridico che non faccia affidamento alla fiducia reciproca delle persone. Sono molto lieto che si costituisca anche una sezione di vasto dove c'è una presenza significativa di uomini del diritto, di persone impegnate nel campo della legge e della legalità. Naturalmente l'essere giuristi cattolici significa coniugare un alto senso della legalità ha un senso anche morale e spirituale forte. L'augurio grande che io faccio a questi amici che hanno voluto dar vita a questa associazione a vasto è di essere con i loro interventi, con la loro azione, dei testimoni di verità, di giustizia nel mondo della legge, nel mondo anche della società civile, che ha tanto bisogno di riferimenti credibili, significativi, e che ha bisogno anche di regole alle quali tutti dobbiamo riferirci con alto senso della legalità e del premato del bene comune.